buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di letteratura il sugo della storia conosceremo come va a finire la vicenda dei due promessi renzo e lucia ma vi siete già iscritti al canale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati manzoni nel capitolo trentottesimo soddisfa l'esigenza del lettore curioso di sapere come si conclude la vicenda dei due promessi ti sei mai chiesto in che modo manzoni termini il suo romanzo i promessi sposi osserva attentamente questa immagine chi sono i personaggi rappresentati nell'immagine osservando l'immagine ipotizza la conclusione delle vicende dei due promessi confronta le tue ipotesi con quelle dei tuoi compagni e potete ben credere che le fu messo il suo nome maria si renzo e lucia ebbero una bambina che vediamo nell'immagine in braccio ad agnese la nonna perché le diedero proprio il nome di maria prova a rispondere a questa domanda e condividi le tue ipotesi con i tuoi compagni renzo volle che tutti i suoi figli imparassero a leggere e a scrivere già che la cera a questa birberia dovevano almeno profittarne anche loro ricordi qualche vicenda narrata nei promessi sposi in cui il fatto di non saper leggere né scrivere aveva procurato dei guai al povero renzo o gli aveva impedito di far valere i suoi diritti prova a rispondere sul tuo quaderno renzo ama raccontare che cosa ha imparato dalle sue avventure gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire cerca nel capitolo trentottesimo le cose che renzo ama ripetere di avere imparate scrivile sul tuo quaderno utilizzando le tue parole ricordi a quali episodi della vicenda dei due promessi si riferiscono rispondi sul tuo quaderno lucia non è del tutto d'accordo con la conclusione di renzo lo chiama il mio moralista non le basta sapere che dai guai che aveva vissuto renzo aveva imparato molte cose per governarsi meglio in avvenire perché quale potrebbe essere il pensiero di lucia renzo è convinto che per evitare di mettersi nei guai basta avere un comportamento prudente ma lucia obietta che lei stessa si è trovata ad affrontare gravi pericoli pur non avendo commesso nessuna imprudenza dunque quale insegnamento si può allora ricavare dalla vicenda se come dice lucia non è sufficiente evitare di mettersi in situazioni pericolose con una condotta prudente prova a rispondere sul tuo quaderno i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani questo è il primo pensiero di lucia lucia pur non avendo cercato i guai si trova comunque ad affrontare vicende pericolose manzoni fa esprimere a lucia un sano realismo che significa perché manzoni è realista è vero che la condotta più cauta e più innocente non basta tenere lontano i guai esprimi il tuo pensiero sul tuo quaderno i guai sono una componente ineliminabile della condizione umana essi possono manifestarsi o come violenze subite ad opera di altri uomini prepotenti o come sciagure naturali come la peste e la condotta più prudente non può mettere al riparo da tutto questo manzoni è realista perché quanto afferma è esperienza quotidiana di ogni uomo e quando vengono per colpa o senza colpa la fiducia in dio li raddolcisce che cosa significa questa frase pronunciata da lucia affermare che i guai vengono raddolciti dalla fiducia in dio significa per manzoni riaffermare il primato della fede esprimi le tue considerazioni sul tuo quaderno il dolore non può essere eliminato dalla vita degli uomini tuttavia manzoni ritiene che esiste una dimensione quella della vita eterna in cui anche la sofferenza acquista un senso ed è redenta e li rende utili per una vita migliore manzoni esprime il concetto della provvida sventura che cosa significa la fede raddolcisce i guai e addirittura li rende utili per una vita migliore che cosa significa la parola sventura perché manzoni la chiama provvida prova a spiegarlo sul tuo quaderno il dolore terreno può essere rivalutato come strumento attraverso cui si fortifica la fede questa non è l'eliminazione dei problemi ma è la sperimentazione del centuplo qua giù uno sguardo nuovo sulla realtà ora manzoni conclude il suo romanzo dicendo che questa conclusione benché trovata da povera gente gente umile è parsa giusta al narratore tanto che ha pensato di concludere proprio in questo modo il suo romanzo in quanto il pensiero espresso da lucia è il sugo di tutta la storia che significa è il senso che dà sapore significato all'intera vicenda manzoni concorda dunque con questa posizione espressa da lucia la ritiene estremamente giusta e ragionevole anche se partorita da povera gente ora tocca a te scrivi una lettera renzo a lucia scegli tu nella quale esprime il tuo pensiero circa il sugo di tutta la storia con chi tra i due sposi ti trovi maggiormente d'accordo perché argomenta la tua posizione e racconta qualche esperienza che hai vissuto tale da confermare il tuo pensiero arrivederci e non dimenticare il like a presto